Il gioco di Futurama E' un modo per dire Che ne hanno dati tanti Giusto? L'ultima risata di Lela Ecco di nuovo Killbot Ormai credo di aver capito Che questa è la fase finale ragazzi E siamo di nuovo Nella stessa posizione Siamo nella stessa posizione Di Bender adesso Tiriamo questa Tiriamo questa Tiriamo Anche questa Ok con calma Con calma Ce la posso fare Ecco qua Qua mi sa che Mi sa che dopo passiamo Mi sa che dopo lì possiamo passare Ecco fatto Passiamo senza Prenderci il danno Ok quindi Ho rallentato Aia le lame Aia Non vedo Non vedo Ah Che fastidio Che culo E ok Lì si è aperta Ma ho paura Che se scendo Da qui Crepo Vero? Quindi proviamo A scendere Da qua Che è un Filino più alto Corri Lela Corri 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 Checkpoint Ok Altre motoseghe Che gioia Altre motoseghe Che si muovono Sono molto contento Grazie Sì 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 Tutto quello che vuoi Qua È il baratro Dell'abisso Io passo E mi trovo qui Checkpoint Che bello Quelle parole Così dolci Oh no Sono contro Ecco qua Eh ma dai Tra l'altro È la prima volta Che vedo Che l'animazione Della Essere colpito Da quella Sega elettrica Lì Ti fa Avere la scossa Sopra lela È incredibile Ok Questo Questo E salta Va bene In realtà Non è difficile Dai Questo Sarà difficile Probabilmente Ok Aia lela Aspetta Ecco Aia Che culo Che sono rimasto Sopra Oddio Non vedo Non vedo lela Ecco qua Allora Qua Una tessera Perfetto Delle vitamine Ok Aspetta Qua è un altro Di quelli Con i numeri Va bene 8 4 2 4 4 Allora Aspetta Allora La soluzione Potrebbe essere 8 4 4 6 6 No E c'è il 2 8 4 4 2 6 6 2 4 4 8 Allora Iniziamo con questi Aspetta E questo è giusto Qua ci va il 2 Però lì non c'è nessuna prova che ci vada il 6 O un altro numero Non lo so Forse sono le somme Perché 8 uguale 4 più 4 Mentre il 4 uguale a 2 più 2 Quindi di conseguenza anche di là c'è un 2 Eh sì Secondo me è così Secondo me è così Magari sbaglio eh Magari sbagliamo Ok non mi ha detto niente 2 4 4 Infine 8 Grande Ok no Per un attimo Ho pensato di aver fatto giusto E poi Però non è successo niente Per fortuna Per fortuna il mio ragionamento ha funzionato Ma Sto gioco dovrebbe essere per bambini Aiuto Fammi entrare Oddio Sto gioco dovrebbe essere per bambini Ricordiamolo eh Ok C'è un bambino Come ci sarebbe dovuto arrivare A una conclusione del genere Ho fatto fatica io fra un po' Aspetta aspetta Aia Eh che dolore Sento delle motoseghe Ma mi sa che sono quelle di prima Allora una telecamera è qui Qui c'è una medicina Qui c'è una tessera Ok Ok Però non ci sono ancora Nemici in giro eh Qua ci vuole la 2 E non ce l'abbiamo Ovviamente Qua ci sono altri laseroni Quindi aspetta 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 Che quello si tira sopra Dai Per favore Dai Guardalo che stronzo Non si tira su Ecco fatto Qua c'è la 4 E non ce l'abbiamo ovviamente Qua c'è la 3 E qua c'è un mordicchio Che meraviglia Ce ne sono solo 3 di mordicchi Quindi Ehi Non dovrebbe essere Così complesso Pensavo avesse bloccati i laser Non dovrebbe essere così complesso Trovarli tutti Aspetta Qui c'è la 3 Io con le ho trovato la 2 Instant morte eh Ottimo Meno male che non devo rifare sta roba qui Eh ma se non si apre Allora siamo ancora qui E quelle bombe Non servono a niente A meno che Non ne devo tirare giù altre Vero? Può essere No scusami Può essere No dai Non ci credo Cioè in pratica L'ho attivato io Questo mi stai dicendo Gioco? Grazie Bello Ah giusto La chiave Allora qua abbiamo trovato la chiave Della 2 Quindi dobbiamo tornare indietro Però prima Vediamo cos'altro c'è In queste porte La 6 Apriti Allora qua c'è un po' di vita La 6 l'abbiamo vista Non mi sembra Andiamo Di nuovo Ah no Non è attivo il laser Ma si muovono ste bombe? Ma dai Non mi ci sono neanche avvicinato Dunque Di qua non si passa Visto che Ci sono quelle carissime bombe Qua invece Vediamo Qua invece Sembra che si possa passare Abbiamo trovato la 6 Ottimo Ah Vuoi vedere che Devo farle di nuovo saltare in aria? La 7 Non ce l'abbiamo Qua c'è la 8 Che non abbiamo Io devo Attivare Questo Che fa esplodere le bombe Turno la dietro Ecco fatto Disattivo Il laserone Ecco fatto E di qua Ora posso passare Perfetto Quindi Passa Giusto? Giusto Qui vediamo cosa c'è La tessera numero 8 Perfetto Un altro mordicchio? No Perché non lo sentivo Canticchiare Ok Queste sono solo Altra telecamera No La 5 Non ce l'ho La 8 Dov'era? Ah era di qua La 8 Giusto Dai Tirati su 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 Aialela Dio mio Passo Non ci passerò mai Devo disattivarlo Immagino Immagino Che mi serva O la 7 O la 5 Prima E la 7 O la 5 La troverò probabilmente Nella 2 Eccoci di nuovo La 2 Apriamola Abbiamo trovato La 4 La 4 Dove stava? Che è qua Perfetto La 7 Quindi la 5 Sarà l'ultima Giusto? La 7 Era Da questo lato Lo scopriremo adesso Era Dall'altro lato Perfetto Eccomi qua 7 E infine Quindi La numero 5 Eccomi di nuovo Qua al 5 Uff Finalmente E non c'era nulla Questo Disattiva Il laserone Perfetto Ma non c'era Niente Con questo Disattiviamo Il laserone Che mi farà Passare Appena Ecco fatto Checkpoint Ma quel cazzo Oh no Se Se qua Crepo Adesso Alla fine Beh dai Mi ha dato Il checkpoint Per fortuna Allora Ecco fatto Stessa cosa Ma con i laser La gioia Di vivere Come Come ci sarei dovuto Arrivare lì Sto gioco Mi vuole fare Impazzire Allora Dai Ce l'hai fatta Almeno sto giro Ora Lela Lela Questo è pericoloso Quindi Proviamoci Malamente Perché il tempo Per arrivarci Ce l'hai Ma non quello Di aggrapparti Quindi Se ora Io provassi Meglio metterci Sopra del ghiaccio Così Ce la dovrei Fare Perfetto Dio mio Io odio sto gioco Ok Eccoci qua Lela Un altro mordicchio L'ultimo mordicchio Diventerai una mutante Qua c'è una porta Tanti laser Tanti Tanti laser Perfetto Sono partito Con sto gioco Dicendo che Non avrei mai finito Trenta vite O così Più Se mi facessi passare Sarebbe anche comodo Eh vabbè Grazie Queste secondo voi Sono instant morte? Speriamo di no Sennò devo rifarmi Tutto quel pezzo No dai Non è instant morte Ascolta Ah no Non mi fa passare Ottimo Volevo fare La zanzata E passare tutto Però vabbè dai Questa è stata la cosa Più facile Di questo livello Passare quel pezzettino lì Signori Io credo che La lotta di Fry Che è il prossimo livello Sarà l'ultimo livello E Lo spero Con tutto il cuore Quindi signori Vi ringrazio per avermi seguito Come al solito Mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Questa sera In live Alle 21 Statemi bene E buona giornata Ciao 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 Grazie a tutti.